Non glielo faccio, non glielo faccio, non glielo faccio, grazie, 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 grazie. Albano, abbiamo dato un titolo a questo incontro che è Il vino è musica, allora sono due passioni per te legate, come dire, al tuo modo di essere, al tuo modo di esistere, alle tue radici contadine e alle tue radici musicali. La scelta di fare vino, quando è nata, quando è cominciata? Intanto sono nato in una famiglia di contadini e laggiù i contadini tutti facevano il vino, quindi mi sono, penso che prima ancora di bere latte mia madre mi ha dato un po' di vino, sicuramente, questa voglia di vino nasce perché c'è naturale, quando vivi in un ambiente, respiri quell'ambiente, poi è difficile cambiare e io non sono mai cambiato. Ricordo solo che quando sono partito dalla Puglia per andarmene a Milano, disse a mio padre, io me ne vado ma un giorno tornerò e farò il vino e quel vino avrà il tuo nome. Sei quante idee per la testa, sappi che la realtà è più dura di come tu la presenti. Siccome mi ha insegnato che la realtà è dura sì, ma se ci metti tutte le energie immaginabili possibili puoi dare un cambio sicuramente. Cosa che è stata, io nel 1973 ho investito nei terreni e nel vino e il mio vino è nato nel 1973. Mi ricordo ancora il momento in cui mio padre ha preso quella bottiglia Don Carmelo e ha detto però che capo di ciuccio, che tradotto in inglese sarebbe che era un complimento straordinario. C'è uno scambio di vini tra un calciatore e un cantante. Hai visto? Il mondo è cambiato. Il mondo cambia. E' un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. E' un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa.